benvenuti siamo sul proxmox nodo 45 quindi il secondario quello dove ho creato il firewall open pfsense funzionante quindi mi sta servendo da router mi sta distribuendo gli indirizzi mi sta facendo da vpn mi sta facendo anche da controllo con paiol dei dns su questo adesso guardate quante macchine ho creato anche per prova voglio fare un backup backup di paiol se non l'ho già fatto mi vado vado su sulla sezione backup prima di fare tutto ciò bisogna che il data center abbia nello storage il punto dove fare i backup che possono essere i local che possono essere lo spazio dedicato anche alle immagini ovviamente per fare questo deve essere abilitato al momento della creazione il vz dump per fare il backup dei file altrimenti non è possibile quindi in questo caso io ho settato come backup il volume nfs backups che trovo sul nodo 33 quindi su tronass e il nodo local che comunque ha al suo interno la possibilità di fare il backup altrimenti non è possibile quindi quando vado sulla macchina vado su backup e clicco su backup now vedete che qua mi dice anche dove lo dove lo va a fare ok cosa che posso scegliere anche da qua abbiamo a disposizione uno aviable 260 giga ok non sappiamo come vi ho detto nello scorso video non sappiamo quanto possa pesare indichiamo indico dove andare dove andare a posizionare il backup backup che effettivamente è all'interno della mia cartella backup del tronass qui ci deve essere il dump eccolo qua questi sono i backup vedete che qui più o meno c'è scritto la macchina un'altra cosa che mi viene a mente come facciamo se le macchine si chiamano uguali spero che ci pensa lui perché pensavo che ci fosse anche un nodo invece non c'è il nodo va bene adesso vediamo è proprio quindi questa macchina che si chiama 107 qui non ce l'ho la 107 invece la macchina che si chiama va bene in che modo io voglio fare il backup allora dovete stare attento se scegliete suspend o stop l'opzione migliore sarebbe snapshot o cosa significa che suspend mode andrà a mettere la macchina in quel momento in suspend e farà effettuare il backup e la riattiverà quando ha finito stop stop stopperà la macchina quindi in questo caso se io ipotizzo di fare suspend o stop andrà a spegnere il servizio se questa è una macchina di un utente gli stiamo togliendo di sotto il sistema operativo quindi assolutamente no facciamo snapshot che equivale a fare uno snapshot della macchina in questo caso quindi questo è il backup snapshot vedete che qua in questo caso dato che quando va a finire qua dentro non so se andrà a sovrascrivermi ad esempio qui vedete che ci sono il nome del servizio diciamo la macchina eccetera eccetera quindi qua farò anche io fatica a vedere qual è la 107 anche perché un domani avrò una macchina 107 ma ho due noti qua farei fatica allora come mi suggerisce lui andiamo io a mettere davanti non un guest name ma un cluster name che gli dovrebbe dire quindi che è buh cominciamo a dirglielo anzi nodo 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 lo chiamerebbe proxbox ok mi piace che tipo di compressione qui scegliete quella che fate le vostre prove dicono che questa sia la migliore cosa vuoi notificarla all'email vediamo se funziona servizio email se non funziona poi vediamo andro piaccio gmai.com com ok ed effetto il backup in base a quanto pesa la macchina lo sta facendo lì dentro e noi gli sta dando non gli ha dato un nome che pensavo che io lo desse vediamo 107 107 però si chiama lxc ok mi devo un attimo capire come fare sta roba però capisco che lxc non è la macchina standard non mi piace forse è il caso di mettergli di dedicare il backup da un'altra parte o almeno un'altra cartella però per il momento va bene task ok ha finito eccolo qua tutte le volte che io entrerò qui il tempo che caricherà mi dirà l'ultimo backup quanto è stato fatto e quanto pesa ci clicco sopra restore e questa sarà una macchina restaurata snapshot un altro modo per fare backup io qua gli posso dire prima installazione o comunque primo settaggio o qualcosa del genere faccio lo snapshot questo mi serve più che altro per tornare indietro quindi mettete che io adesso ho fatto una snapshot poi vado a fare mille mila utilizzi mille mila configurazioni si blocca tutto si distrugge tutto formato distruggo tutto ritorno qua setto faccio un railback e lui torna allo stato delle 10.01 e 38 di oggi stessa cosa da fare anche con il resto quindi adesso andiamo a fare delle prove qua in backup faccio backup guest name io gli metto tutta sta roba voglio vedere vedete cosa cambia vediamo il nome non cambia ok anche qui 429 vediamo se l'esperimento ha funzionato questa è la 108 la 108 la 108 vedete che pesa 400 400 mega e non ha nomi devo vedere come fare a pettigli nomi davanti allora per il momento non sembra che io possa mettere mano al nome del file ma solo nelle note c'è scritto questo quindi wireguard quindi il nome dell'host standalone node possiamo toglierlo wireguard quindi quando faccio il backup qui posso scrivere il vmd e il nodo e basta va bene va bene quindi lo farò con questo backup sempre snapshot gli vado a mettere questi due anche qui stiamo parlando di una macchina che peserà sempre 400 mega finito e home assistant che anche come immaginavo dato che questo 105 questa macchina virtuale 105 ha lo stesso nome e lo sto mandando nello stesso posto qui c'è un'altra 105 che è di dell'altro nodo di 5 giga vedete e quindi lui si confonde questo qua è una macchina virtuale che corrisponde a essere la windows 11 t da sull'altro nodo sul nodo 44 che non c'è più perché l'ho eliminata però da quest'altra parte c'è il backup la potrei riportare dentro e c'è con un windows 11 sopra ok risparmiamoci buono per risparmiarci questi 5 giga dall'altra parte questo lo rimuovo però mi sono trovato in questo problemino che è un problemino devo mandare io il backup da un'altra parte molto probabilmente non posso mandarli nello stesso posto va bene questo si risolve comunque mi sono dato una risposta ok il home assistant pesa un pochettino di più perfetto questa è la prima parte cioè questo è un backup dell'inizio che posso fare posso fare io tutte le volte se vado sul data center invece posso andare a scegliere in che modo fare i miei backup scegliere dove mandarli ovviamente e la schedulazione del backup ok questa cosa qui non la faccio su tutte le macchine perché ad esempio in questo caso che cosa mi interesserebbe fare backup di questo nel senso c'ho il backup iniziale si potrebbe aver senso farlo una volta a settimana wireguard idem una volta configurata la macchina non la uso più firewall idem una volta configurata la macchina non la uso più non la tocco più al massimo qui vado a fare gli snapshot se devo fare qualcosa ritorno indietro magari home assistant avrebbe senso e noi lo facciamo proprio su home assistant magari faccio tante di quelle modifiche che ho bisogno di tirare su un backup allora proviamo a fare su questo andiamo ad aggiungere il home assistant facciamo un backup giornaliero alle 9 di mattina facciamo alle 12 di questa macchina quindi sarà fatto un backup della macchina 105 tutti i giorni alle 11 ora per prova intanto di aspettare questi giorni che ci riconfermeranno ipotizziamo che noi io di piol voglio effettuare un altro backup domani dopo domani lo effettuo ad oggi giusto per vedere come si comporta vado a effettuare il backup il backup quanto mi peserà come abbiamo detto nel video scorso dovrebbe pesarmi esattamente qualcosina di più di 379 megabyte vediamo se è vero ed infatti pesa 0 2 megabyte in più quindi io sto occupando per ogni backup sto occupando esattamente lo stesso spazio della macchina virtuale andiamo a vedere se è vero la macchina 107 la macchina 107 cioè un backup da 370 a 688 e un backup da 370 a 661 una fatta qualche minuto prima una fatta qualche minuto dopo quindi i backup mi pesano troppo diciamo ecco perché sul nodo principale quando io vado a fare il backup della mia macchina windows che pesa 200 giga vedete io ho un backup iniziale ok sto occupando 75 giga un secondo backup sto occupando 78 giga terzo backup fatto un anno dopo sto occupando 226 se vado a fare un backup sul data center schedulato questa macchina mi peserebbe per ogni backup circa 200 giga perché ovviamente perché la macchina ha un volume creato per fare la serie sul nas windows qui 10 giga magari non sono occupati quindi questi non vengono hanno presi in considerazione però da questo e questo ci sono circa 200 giga che ballano e quindi più quello che serve per ristrutturare la macchina virtuale pesa tanto ecco perché questa macchina devo fare in modo che questi dati siano da un'altra parte come ad esempio tutti su trunas e non siano sulla macchina quindi non siano residenti sulla macchina in modo da l'ideale sarebbe avere una macchina intorno ai 50 giga che si backupano molto velocemente ma si ripristinano molto velocemente e i dati magari sono da un'altra parte inoltre non è incrementale andiamo a vedere invece quando nel data center backup parliamo di retention perché io qua non gli ho detto di fare la retention quindi lui andrà a sovrascrivermi la macchina e andrà a sovrascrivermi quei 200 giga però questo non è la via migliore la via migliore è fare una retention ad esempio di 7 giorni e di 6 mesi cosa significa questo? significa che questa macchina verrà moltiplicata 6 per 7 volte come possiamo capire meglio questa retention all'interno della sezione di backup e restore di proxmox troviamo un simulatore che è questo qua eccolo qua il prune simulator ovvero quanto dura la mia macchina andiamo a vedere allora noi abbiamo fatto ad oggi una cioè oggi finisce quindi ci fa vedere che cosa sarebbe successo all'indietro nel tempo se l'avessimo fatto vedete che qui in avanti nel tempo è bianco noi siamo qui e qua ci fa vedere come funziona quindi in questo caso è simulato di mantenere gli ultimi 4 di 5 giorni e di 2 settimane significa che ogni giorno lui fa 2 backup mattino e sera ipotizzo ah no mattina e sera e l'altro mezzogiorno e quindi pomeriggio mattina e pomeriggio in due giorni quindi gli ultimi 4 stati i gialli sono i daily quindi va indietro di un giorno va indietro di un giorno fino a 5 fino a qua quindi io mettete caso che ho fatto qualche disastro posso tornare fino a friday quindi venerdì scorso e non solo posso tornare anche al 31 di dicembre al 24 di dicembre basta invece la mia attuale configurazione è 7 giorni 6 mesi quindi quando posso tornare indietro posso tornare indietro di 6 giorni 7 giorni poi dipende a che ora lo mettiamo io l'ho messo alle alle 11 quindi oggi tutti i giorni fino a 7 quindi fino a 5 di gennaio posso andare a prendere la mia macchina a 4 non avrei backup ma ce l'ho per ogni mese quindi al 31 dicembre un backup al 30 novembre un backup al 31 ottobre avrei un backup al 30 settembre avrei un backup indietro di 6 questo significherebbe che nella mia macchina windows io dovrei avere spazio da moltiplicare facciamo 0 2 per 7 quindi almeno un terra e 4 per 6 quindi almeno 8 tera per quanto riguarda la mia macchina e non ha senso ecco perché andremo andrò cercherò di configurare il backup server perché andrà a mettere solo ed esclusivamente ad aggiungere a quei 200 mega solo i file modificati e quindi andando a risparmiare un sacco di spazio ecco poi non so se i calcoli che ho fatto sono corretti ma per quello che vedo qua dentro a me mi sembra di sì adesso vediamo come si comporta la macchina con la schedulazione faccio anche una schedulazione sul modulo 44 la Debian quanto pesa? dovrebbe essere leggerina questa ok la macchinina Debian Full Upgrade pesa il giusto si potrebbe risparmiare ancora qualcosa però siamo a 36 giga va bene se faccio un po' di pulizia peserà meno e lo andrò a fare e vado a metterla sotto backup giornaliero proviamo a fare questo per accelerare i tempi proviamo a fare questa ogni 2 ore della 110 create perfetto abbiamo messa sotto backup così vediamo come va a finire e intanto la uso la pulisco un po' faccio delle prove così nell'arco di una settimana sia da un nodo sia dall'altro ci facciamo realmente i conti fatti bene se è vero che pesano di più prima di implementare il prossimo step grazie a tutti